E' quasi tutto pronto nell'ex tabacchificio in contrada a Caffasso a Capaccio Pestum. La struttura sarà inaugurata in occasione della Borsa del Turismo Archeologico in programma dal 25 al 28 novembre 2021. Tanti lavori di recupero che sono stati svolti al suo interno ma anche all'esterno, come sottolinea il primo cittadino Franco Alfieri. Il giovedì alle 10 inauguriamo il tabacchificio, una struttura che abbiamo reso agibile in maniera essenziale con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, diventerà un polo feristico. Una struttura emozionante, mozzafiato. Innanzitutto abbiamo eliminato una bomba ecologica, nel senso che vi era un tetto di amianto di parecchi migliaia di metri quadrati, quindi eliminato. Abbiamo fatto una copertura ex novo, però ecco una struttura che si presterà come contenitore per manifestazioni culturali, musicali, polo feristico, quindi per eventi culturali. Ma soprattutto un esempio di archeologia industriale, così come lo è stata la fornace di Agropoli, che con grande determinazione e tenacia fu esercitato il diritto di prelazione con la mia amministrazione. Così si farà anche a capaccio pesto per il tabacchificio, quindi vecchie fabbriche che diventano fabbriche di culture, che danno nuova prospettiva di lavoro, di ricchezza e soprattutto di crescita sociale e civile.